Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie C'è stata molta pioggia però non come a Milano Ho capito, ma tutta questa cosa che mi hai detto finora riuscivi a perdermela in coreano? No Ma sai qualcosa di coreano? Vinto io Sono le cose molto basilari Abbiamo fatto una vacanza assieme, ci siamo visti perché comunque come ha detto anche lei stavamo bene assieme Ma è sempre stato quello, cioè non è mai stato, cioè anche quando magari provi a fare un discorso Ma se tu rimanessi qui No, non è vero, ogni tanto Andrea diceva, ma se, ma se Minchia frattina, t'hai proprio inculato, ma scusami Ma posso sapere che è l'inculato, no ma voglio sapere che è l'inculato dei due Perché c'è sempre un inculato, c'è sempre uno che piace Ho fatto un errore, ho fatto un errore, ho sbagliato davvero, ti chiedo scusa Chiaro Tanto ormai l'hai detto, quindi se lo devo dire, non l'ho mai preso Giori ti manca questa cosa o... No, anche perché mesi fa Ci avete provato? No, c'è stato un accenno di prova, ma a quanto pare... Mh, sì Vabbè Eh, io il cazzo lo sono già tagliato, però Ok, siamo nel letto Cosa inizia a farmi? No, tra prima di te ti apri Senti, quello fa il rumore Come una sera Senti, qua, un po' particolare Eh, io Poi lo scopo Lavorgo le scarpe, lavorgo le calze con la bocca e vincere ai cartipiedi Amore, hai già vinto Ma posso scoprire? Sto, ho già vinto Lavorgo Perché non va niente la connessione, è frustrante sentirvi a... Infatti non ce la faccio più a me ti senti andato io questi fai una siega vabbè allora rimango qui scusate che gibe gibe è mettete fuori vabbè non ho mai giocato in terza categoria c'è questo grandissimo club non è un'azienda è una squadra ma è Alecco a Como a Como vero? sì Valbasca comunque loro non hanno mai giocato la terza categoria loro non hanno mai perduto tempo fratino sei felice in questo periodo? sì stai bene? sai perché? cosa pensi che ti ma cosa ridi? la domanda serisa la retrospettiva ma perché ridi? vabbè vabbè avanti c'è qualcosa di bello che si passa qui ragazzi io lo sento qui c'è qualcosa di bello che si passa qui fratino cosa c'è? qua salutami Giammo eh ciao è tipo un modo di far capire hai fatto sempre ah no vabbè ah è per dire che si è scopato la mamma di Blur ma veramente? ha fatto intendere che si è chiamato la madre di Blur anch'io no non è vero ma veramente ma perché sta cosa? ma perché sta cosa? ma cosa vuol dire? si è davvero lei è arrivato il ferro ma è davvero lei? certo la madre di Blur immagino il penguin che la chiama e gli dice si salve signora Tocco si io volevo fare tu vuol dire questo vuol dire che mi vuole no scusami ciao perché? che complimento scusa? che complimento vuoi fare a Simone? aspetta no è vero forse mi sono reggito troppo così? dove sei sincera? si vai sei carino si però se fai così tua caputtana cioè ti giochi tutto dai basta basta guarda guarda se n'è andato Lollo se n'è andato veramente Lollo Lollo non vorrebbe essere in contenuti del genere Lollo zero ti piace il donno come ragazza? in questo momento no ah prima si carino veramente? oh no stai la un deficiente ma voi avete un coltello? no non si può sono un maranzo buono un maranzo buono un maranzo buono devi fare il bravo tu eh devi fare il bravo per me non è abbiamo qui il bravo non è non è non è non è non è tu è maranzo a fete dai mamma guarda che avete le chiappe di ferro no 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 pensi o lei non ti ha mai fatto questo discorso pensi che comunque non sia uguale per lei oppure sei più geloso perché io penso di essere io penso di essere un caso un po' anomalo nel senso che so che la mia posizione è un po' estrema e so che non posso pretendere che dall'altra parte ci sia una cosa analoga alla mia proprio perché proprio perché non non è una cosa classica la posizione come la mia è un'altra parte ci sia una cosa No, non ti posso guardare? Hai paura? Si. Di me? No, della mia dimensione, delle donne. Pensi che non possa reggere le tue dimensioni? Pensi che non possa reggere le tue dimensioni? Penso che tu non le possa vedere proprio. Anche allora è greve, ecco perché mi fanno. Se sai guarda quando c'è la casa? Dammi il pollice. No, è stretto, è stretto. Finito così? No, probabilmente lungo. Medio lungo, stretto. Eh, sì, è vero. Ma guarda, ma guarda, ma fidati proprio che fidati che è anche contro. Ma mi sento che il fatto che sei proprio piccolissimo. Se la luce ti invitasse a cena tu già andresti? Si. Balli, me ne vedo già. Un minchio anch'io? Là sulla laguna, la maggiore, la così qua. Col fiorellino. Tu la luce andresti a cena con lei? No. Tu sti video perché fanno veramente ribaltare? Allora, vediamo a chi siamo super... Vabbè, Greenbound. Anderade... Che? Ma tra l'altro pure... Vabbè, ok. Grazie per ricordarmi come era Simone da piccolo. Come erano da piccolo. A parte che ha preso... Cosa sono le sub? Allora, vediamo a chi siamo super... Ha preso le sub? Ah, le ha presi nella settimana di vacanza? Vabbè, forse magari è l'unica settimana in cui è riuscito a superarmi. Si sta. Allora... Non grande, eh? Più c'era perché è fidanzata con lui? No. Ho capito. Io chiedo sempre, eh. Ognuno può rispondere ma può non rispondere. Ci vedono pure il forma. Sei incredibile, non è vero. Prossima? No, io... Signorata. No, voi non partecipate? No, no. Grazie. Guarda. No, la senti sono. 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 Eh, no. Oddio. Forse mi potrebbe anche piacere. Però, sincera, non l'ho mai fatto. Perciò non lo posso sapere. Ah, non l'emeri sui giorni non ti ha mai accato il butto del culo? No. Una volta ci va un po' di... Una volta ogni tanto si avvicina però... Poi senti la cacca. Sì, la cacca. Sì, la cacca. Ok. Giardi comunque oggi è fuori. Allora, andiamo avanti. Eh, lo so. Anna, hai toccato il sudore? No, vabbè. Mi sono toccato prima le palle, quindi non ho visto ora. Quindi dicevo, perché hai detto il nome? Perché è un fiero estetica. Ci va. Perché sono più alto di te. No, non era per essere cattivi. No, 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 no. Capo entesi, è per essere cattivi. Ci sta, va bene? No, no, vabbè. Cosa devo dire? È fantastica la donna. Gioele. Gioele. Benissimo. Hai preso tantissimi punti a ricordarti il mio nome. Sì, è solo perché c'ho un amico che si chiama Gioele. È più male di me. È più male di me. Sì, molto. È anche un cazzo veramente grosso. È l'opposto. È l'opposto. È l'opposto, va bene. È l'opposto. E domanda, andresti mai come un ragazzo che sai che è il cazzo piccolo? No. Eh, no. Quando le donne vi dicono che le dimensioni non contano, sono bugiarde. Sì, è vero. Sono bugiarde perché per me contano. Sì, l'avete visto adesso la rappresentazione. Due dimensioni, l'altezza, bocciato, il cazzo, bocciato. Sono bugiarde. Però possiamo diventare grandi amici. Raffa di c***o, cazzo è un cazzo della mia donna. Cazzo. Sai ci... Domanda. Ma che cazzo me ne frega i gatti? Chi? Io o lollo? No, io no. Ah. Questa domanda, scusa. Se vuoi provare con me, eh? Ti volevo fare un complimento. Sei ridanzato, non volevo litigare con nessuna tipa. Che complimento, scusa. Questo vuol dire che mi vuole. No. Scusami. Ciao. Perché? Che complimento, scusa. Che complimento vuoi fare?